Gentili telespettatori, buona giornata. Si sta parlando di revocare il concerto dei placebo a Matera, dato che l'artistone di questo gruppo avrebbe offeso il Presidente del Consiglio, quindi vilipendio alla più alta carica del governo. Il Sindaco annulli i contributi erogati dal Comune e venga annullato anche il concerto. Ma c'è chi dice l'artista sbagliato ma l'evento va tutelato. L'artista sbaglia e si tutela l'evento. Io avevo detto la mia idea, provate ad andare a fare questo, provate ad andare in Germania, negli Stati Uniti, a fare un concerto e ad insultare chi governa. O provate ad andare in un altro Stato a prendere una multa se vi fanno uscire dallo Stato se non l'avete pagata. Basterebbe una denuncia delle autorità, fermarlo al confine e dire rimani in Italia fino a quando non hai fatto il processo per vilipendio al Presidente del Consiglio. Che sia Meloni o sia stato Romano Prodi è uguale. L'Italia deve imparare a farsi valere, se no rimane la solita idea dell'Italia paese repubblica delle banane. Domani i placebo si esibiranno a Cava del Sole, Sonic Park. Alla luce della recente esibizione a Stupinigi per l'apertura martedì scorso della omologa rassegna musicale con tanto di epiteti di Brian Molco alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dove ha detto che è praticamente razzista e fascia. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Pier Giorgio IV, insieme ad Augusto Toto e Stefano Melodia, ha chiesto al Sindaco Domenico Bennardi di revocare i contributi previsti con delibera di giunta comunale dell'11 luglio, destinato agli eventi organizzati da Sonic Park a Matera. Molco ha offeso pubblicamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e indirettamente i milioni di cittadini italiani che l'hanno sostenuta, indicandola con epiteti volgari e offensivi. Sonic Park, in qualità di organizzatore del concerto anche a Matera Domani, prende ufficialmente le distanze da queste azioni offensive e chiede ai placebo di scusarsi pubblicamente con la Presidente del Consiglio. Il comportamento del cantante del gruppo britannico, dichiara il Sindaco Bernardi, va stigmatizzato e scorretto offendere una carica dello Stato. Democraticamente eletta dai cittadini, da un palco che non concede repliche, ma a mio avviso la rassegna Sonic Park è molto più di questo, non va identificata con un singolo episodio, ma è principalmente il frutto di un grande impegno fatto di lavoro e professionalità capace di portare sui palchi di stupinici e Matera grandi artisti nazionali e internazionali. La politica rimanga il più possibile fuori e lontana da tutto questo. Sì, ma se tutto questo insulta la politica, tutto questo va cancellato. Giusto? In un paese normale, come si dice spesso, queste cose possono accadere, ma chi insulta e offende la deve pagare. La deve pagare per quello che ha fatto assumendosi le sue responsabilità. Offendi il Presidente del Consiglio di un paese che ti ospita, li si mette su un aereo e li si rimanda a casa con decreto di espulsione immediata, persone non gradite. Come fanno tutti i paesi. Come fanno tutti i paesi. Ci sono paesi che quando entri ti controllano il cellulare per vedere se tu sui social prendi in giro il loro paese o stai denigrando il loro Presidente. Non vi ricordate che qualche tempo fa a chi entrava negli Stati Uniti, non lo so se lo fanno ancora, ti guardavano il cellulare e avevano respinto delle persone alla frontiera perché avevano delle immagini del Presidente degli Stati Uniti prendendolo in giro. Ho detto non entri, non sei persona gradita. Ecco, insomma, gli altri stati insegnano e come dicono tutti, la grande democrazia degli Stati Uniti alla frontiera ti controllava, adesso non lo so se lo fa più, ti controllava il cellulare per vedere se prendevi in giro il loro Presidente e se ti beccavano con qualche foto, con qualche meme. Ecco, non entri, non entri. Persona sgradita, segnalato e non entri più. Ecco, qui avremmo potuto portarli alla frontiera, metterli sul primo aereo, arrivederci, grazie e bannati per sempre, persone non gradite sul suolo italiano. Eh, lo so, questa sarebbe la normalità, però l'Italia non è un paese normale, è la Repubblica delle Banane fondata sul mutuo del parlamentare. Repubblica delle Banane, quelle che ci sono con le palme in Piazza Duomo, fondata sul mutuo del parlamentare. Italia. E così arrivano dall'estero a insultare chi governa il paese che li ospita, dove vengono a fare i soldi. E non sono i primi che vengono a fare i soldi in Italia e offendono l'Italia, eh. Quanti pseudo giornalisti abbiamo visto, cantanti, che arrivano in Italia e offendono l'Italia. Quanti sportivi stranieri che magari gareggiano per l'Italia e offendono l'Italia. Gente che prende un sacco di soldi in squadre che li pagano centinaia di migliaia di euro e vengono a dire che l'Italia è un paese razzista. Che speterina, no? Arrivi in Italia a prendere tanti soldi perché da un'altra parte non te li danno e dici che il paese fa schifo e vai magari anche al Festival di Sanremo. Insomma, ripeto, cara Italia, fatti valere, fatti valere. Capisco che c'è un'area politica di anti-italiani che è quella di sinistra, però c'è un'altra metà di italiani di un certo tipo. Pertanto bisogna farsi valere, bisogna farsi valere. Ma voi immaginatevi se il governo avesse espulso sti cantanti come persone non gradite, la sinistra avrebbe chiesto l'aiuto dei caschi blu dell'ONU, avrebbe chiesto l'intervento della Nato, avrebbe chiesto d'urgenza la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e i sinistri si sarebbero ritirati sulle montagne per combattere come dei partigiani il governo totalitario che osa cacciare un gruppo musicale che offende le istituzioni. Ripetiamo, Paese delle Banane, Repubblica delle Banane, fondata sul mutuo del parlamentare. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.